Oggi analizziamo insieme il romanzo La famiglia Manzoni di Ginzburg, pubblicato nel 1983, quando la scrittrice prende in mano il progetto. A 60 anni ha raggiunto il successo con Lessico Familiare. Ella vuole raccogliere le tante frammentarie notizie sulla famiglia di Alessandro Manzoni. Utilizza quindi diverse fonti come diari e lettere. Il libro si divide in due parti, una prima della nascita di Alessandro Manzoni e una successiva. L'autrice non è solo affascinata dalla figura tormentata di Alessandro Manzoni, ma anche dei rapporti con tutti i componenti della famiglia. Giulia Beccaria, la madre di Manzoni, figlia di quel Cesare Beccaria, spinta a sposare Pietro Manzoni, ma il matrimonio non durò, infatti ella lo abbandonò per Carlo Imbonati. Enrichetta, la prima moglie di Manzoni, che si converte al cattolicesimo, e Teresa, la seconda moglie. Diciamo che le famiglie di un tempo erano numerose, ma i loro problemi non erano diversi da quelle di oggi. Grazie. Grazie.